Il Vlogmas di oggi inizia così, con me che vi faccio vedere un pezzetto della carta da rivestimento che avete visto, siamo andati a comprare assieme dagli Rue Merlin e ne stavo ritagliando un pezzetto perché sto pensando a come utilizzarla, voglio fare una nuova creazione oggi e l'ho aperto un attimo e sono rimasta qui ora a guardarlo perché è meraviglioso perché ha questo soft touch ruvidino, molto bello sono qui a pensare al cosa farci momentaneamente, lo stavo guardando un po' da tutte le angolazioni per capire e penso proprio che creerò uno sfondo così con una simile stanzetta per una fioraia forse ho tantissime idee, non so come metterle in pratica da cosa iniziare però mamma mia, lui è stupendo ok, mi sono posizionata già per bene qui perché come vi ho detto voglio fare una creazione ho già messo a colare la, come si chiama, aiuto, la fil ceramic, ecco ha dentro lo stampo della cornice, quella ovale che sto usando ultimamente che mi fa impazzire poi piace un sacco anche a voi quindi vado molto sul sicuro utilizzandola e appunto ho messo la fil ceramic lì dentro, la deve stare per un'oretta ancora quindi intanto ho abbastanza tempo per iniziare la creazione del tutto e quindi voglio assolutamente dedicarmi a lei almeno un pezzo in realtà perché poi è passato il corriere a ritirare aiuto, non devo perdere lei che è una commissione che devo anche inglobare fra poco dicevo, è passato anche il corriere a ritirare i primi pacchi del restock ed erano una ventina di pacchi, non mi ricordo quanti erano ragazzi erano tantissimi, no secondo me erano molto di più comunque erano tantissimi ed erano alti quanto me come prima cosa in realtà voglio crearmi i colori perché ho una palette in mente e il colore principale che voglio realizzare è una specie di glicine, un azzurrino molto simile al colore di Non ti scordi di me che è una mia tonalità preferita azzurrino molto simile al colore di non ti scordi di me allora al momento sono arrivata a questo punto alla fine sono anche deciso di non uscire più perché si stava facendo tardi io ci sto già lavorando da ore su di lei perché volevo crearle proprio un vestitino che mi piacesse sono molto soddisfatta delle pieghe, del movimento sotto veramente stra soddisfatta, mi piace tantissimo alla fine è uscito il colore che volevo io però sì, la sto ancora finendo quindi ho deciso di non uscire perché ci tengo tantissimo a finirla quasi del tutto entro oggi visto che poi in realtà durante le giornate mi sto dedicando alle vostre commissioni quindi almeno oggi volevo prendermela per creare qualcosina di nuovo e devo dire che mi piace tantissimo stanno venendo proprio delle belle pieghette molto contenta comunque ragazzi questo strumentino qui la doppia punta di Cerart credo c'era il nome è il K500 credo fosse si sta iniziando a sbiadire ha la punta da sgarzino duro di qui anche se continuo ad usare lui perché comunque è livemente più grande vabbè mi trovo bene in realtà li uso entrambi però questa punta che ha da questo lato mamma mia raga questa soprattutto se fate creazioni di questo tipo quindi dovete fare vestitini, pieghette ammorbidire magari un segno fatto con lo stuzzicadenti e dargli un movimento quindi più morbido cioè no, lui è la vita veramente questo ve lo straconsiglio anche perché riuscite a fare tantissime cose senza andare a rovinare la pasta piuttosto che andare appunto con uno strumento più rigido, più duro e devo dire che lui mi sta venendo in grande grande aiuto e spoiler, devo sentirmi con i produttori perché forse riesco a farvi avere un codice sconto e a collaborare con loro però appunto devo ancora chiamarli purtroppo in questo periodo prima di Natale pre-natalizio tra i restocche e le cose da fare insomma non è stato molto semplice ma conto di contattarli il prima possibile e faccio di tutto per farvi avere questi prodottini con un bello sconto di no, so promesso sotto ci sono i piedini e mamma mia mi fa impazzire la posa che sta venendo non vedo l'ora di finirla allora io direi che con le pieghette per ora ci fermiamo almeno per adesso, poi decidiamo per il momento ci fermiamo perché non so poi ho paura di aggiungere troppo, cioè di fare troppo allora adesso, oddio guardatela per cosino vabbè, mi impazzisco, mi fa impazzire questo vlogmas di oggi alla fine uscirà un creamo insieme ma mi fa tanto piacere perché alla fine non creiamo insieme da un po' di tempo quindi bello, bello, bello comunque il colore che è venuto fuori mi fa impazzire cioè è il colore della vita allora, qui poi penso che con l'acrilico post cottura ci faccio un po' di, magari fiorellini sul bianco che sta sempre bene, bianco su questo colore ok, ma intanto ora ci dedichiamo alle braccina perché poi voglio finire la parte del corpetto quindi vediamo un pochino allora, le braccina, come le voglio mettere? penso che gliele metto davanti tutte e due perché così poi decido se metterle un cestino tra le braccia o tra le manine, anzi o qualcos'altro devo ancora decidere quindi intanto mi faccio le manine che io adoro fare le manine mi piace tantissimo e quindi voglio farvi vedere mentre le creo mi diverto troppo a creare le manine ecco braccino mi dispo ma tu devi andare dove voglio io ok allora, per le manichine per le manichine per le manichine io direi di andarlo a fare oddio gliela farei con questo colore che è il colore del sottogonna però ho paura per i capelli ma in realtà non tanto no, secondo me in realtà non eccessivamente perché tanto le facciamo un bel colletto magari ma sì sì, dai proviamo a fare una manichina vediamo un pochino cosa possiamo fare questa è la vita di me che creo cioè durante le live diciamo che ho sempre il fatto che vi parlo no? e quindi meno male sì, io sto creando però in realtà sto parlando con voi cioè allora no aspetta se no non si capisce io sto creando ok? però in realtà sto anche rispondendo alle vostre domande no? diciamo che c'è un dialogo abbastanza cioè c'è il dialogo e ok invece filmandovi me che creo letteralmente cioè che sto qua a creare a fare le mie reazioni a voi però cioè voi le sentirete dopo i miei sproloqui no? cioè non siete in questo momento con me è diverso ma diversissimo perché così voi state praticamente sentendo tutto ciò che io faccio e penso ogni volta che creo semplicemente a volte lo penso a bassa voce tra me e me oggi lo sto pensando tutto ad alta voce con voi e quindi questo è quello che accade letteralmente nella mia testa ogni volta che creo sono io che parlo con i pezzi di pasta cioè letteralmente sono io che dico al pezzo di pasta scusa tipo in questo momento no? e li dico allora tu mettiti qua tu devi salire qua devi fare un'altra pieghetta carina fai l'altra pieghetta carina ok però vado ad aggiungere dei capelli ancora sopra anche se ora ci facciamo un bel cappellino perché ho in mente un cappellino che ho visto vero e vorrei farglielo però la parte di sopra comunque adesso è troppo schiacciata e preferisco che abbia invece dei capelli un po' più voluminosi quindi andiamo a creare delle ciocchettine che ci devono soltanto dare un po' di volume al tutto vediamo dove dove posizionarle bene allora io devo dire che sono veramente super soddisfatta del risultato ma veramente tanto tanto soddisfatta mi piace tutto di lei veramente tutto aspettate vi alzo un attimo così ve la faccio oddio vado a impiacente mi giuro ragazzi è impiacentissimo sono troppo contenta adesso dovrebbe essere pronta la base che ho fatto con la filo ceramica vi ricordate che vi avevo detto dopo un'oretta vuole essere pronta poi ci ho messo ora a fare lei quindi è prontissima e ora ci attacco tutto e vediamo come sta posizionata vicino poi ovviamente devo creare un po' l'ambiente insomma ci sono varie cose da fare e non so se riuscirò a finirle oggi però intanto vediamo come sta non vedo l'ora di fare magari dei piccoli po' bianchi qua sotto oppure non lo so dei fierellini bianchi però no ragazzi cioè sono innamoratissima oddio no vabbè ragazzi questo è tutto ciò che io amo sono innamorata innamorata tra l'altro con la sua texture sembra davvero tipo carta da parati no? e quindi letteralmente innamorata adoro non so bene cosa diventerà sono sincera perché vorrei metterci il meno possibile visto quanto è bella però mi fa impazzire penso proprio che me ne farò anche qualcuno solo così per me da non lo so appendere in camera perché oddio questo secondo me diventerà un pezzo pazzesco allora non so bene come posizionarvi perché il gancio del telefono non vuole venire oggi in cui voglio capire appunto cosa ci devo fare intorno mamma mia madonna ragazza io impazzita vi giuro io impazzita e voglio appunto decidere cosa ci devo fare mamma mia stanno benissimo assieme allora va bene devo solo decidere cosa farci penso che potrebbe essere veramente molto carino fare qui erbettina e si fare qui magari dell'erbetta lei che cammina sull'erbetta oddio no vabbè lo amo però non so se voglio magari glielo metto un po' più così si mi piace bene ok ragazzi allora questa ora la devo andare a finire come già vi ho detto beh intanto va cotta intanto va cotta poi la finirò con erbettina sotto magari dei non ti scorda di me qua dentro qualche firellino vediamo qualcosa la voglio realizzare e si qualcosina devo ancora decidere come farla però mi fa impazzire è un progettino che secondo me può piacere e in realtà spero tanto che vi piaccia perché a me fa veramente impazzire però si voglio crearle un po' di ambiente qua sotto anche perché magari creandoli in ambiente l'alzo poco poco la faccio arrivare qui che già ce la vedo meglio quindi si ora ovviamente la finirò e poi cercherò di farvela vedere magari finita nel vlogmas di domani perdonatevi se oggi non mi avete visto in volto ma appunto ho dedicato questo vlog al creare assieme quindi fatemi sapere se questo vlogmas vi è piaciuto io e la mia piccina vi salutiamo non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e ci vediamo domani nel prossimo vlogmas ciao ciao